Allora, cambiamo, cioè cambiamo, lasciamo lì da parte perché dopo lo riaffrontiamo. Decreto infrastrutture, Avvocato, ovvero e poi queste nuove norme sui trasporti. Ogni volta che ci sono nuove norme, mamma mia. Ogni volta che ci sono nuove norme ci sono nuovi comportamenti da dover adottare. Ricordiamoci che a seguito della pandemia il governo ha deciso di rimettere mano a tutta una serie di normative in materia di circolazione stradale. Vi do dei numeri. Nel 2020 con la pandemia, ovviamente con un traffico veicolare completamente fermo, ci sono stati quasi il 30% in meno di sinistri stradali e di morti sulla strada. Questo ha comportato per il governo di decidere di andare a cercare il più possibile di trovare una soluzione che ovviamente è impossibile riuscire ad avere sinistrosità zero. Però a cercare quanto meno di tutelare il più possibile che si pone su strada. Quindi ha adottato tutta una serie di nuovi comportamenti, soprattutto in virtù della volontà, che è sicuramente una scelta a mio parere molto buona, di agevolare il trasporto ecologico. Quindi non so se vi ricordate, è stato fatto il bonus per i monopattini elettrici e sono state prese a campione delle città, le classiche città più importanti, quindi Milano, Bologna, Torino e Palermo, per vedere com'era l'impatto dell'utilizzo del monopattino elettrico e anche come se eventualmente poteva essere una soluzione di trasporto, di mobilità alternativa rispetto a quella che di solito c'è. Il monopattino però è un mezzo di trasporto, cioè non è come una bicicletta. Il monopattino può arrivare a delle velocità, può essere anzi a un sistema frenante, a delle batterie e quindi dopo un anno di test, con il decreto infrastrutture che ha rivisto tutta una serie di prescrizioni, sono andati a porre ulteriori limitazioni nell'uso del monopattino. Che dovrebbe diffondersi tantissimo però in realtà è limitato. Allora, la limitazione intanto hanno regolato la velocità, non più 25 km all'ora ma 20 km all'ora, questo da novembre del 2021. Poi hanno messo tutta una serie di norme successive, ad esempio dal 1 luglio 2022 il monopattino dovrà avere gli indicatori di svolta e il freno, cioè gli indicatori di svolta e di freno, sia sulla ruota davanti che sulla ruota dietro. Quindi le frecce sostanzialmente. Esatto, quindi chi aveva un monopattino vecchio dovrà adeguarsi entro gennaio 2024. 23 o 24? 24, primo gennaio 2024 deve assolutamente adeguarsi. L'altro aspetto che almeno a me capita di vedere, ci sono questi monopattini che vengono manomessi, cioè io ho visto, non so se a voi è capitato, addirittura monopattini con la sella, come se fosse una bicicletta e viaggiano su strade extra urbane con limiti di percorrenza a 70 km all'ora, con traffico veicolare abbastanza importante. Il monopattino non può essere manomesso, il monopattino addirittura viene confiscato con la nuova normativa. Si può usare solo nelle aree urbane, quindi nelle aree dove ci sono i limiti al massimo di 50 km all'ora. Per cui non è che io lo posso utilizzare, ripeto come ho visto, per spostarmi da un paese all'altro a 10 km di distanza, magari usando la tangenziale. non può essere fatto assolutamente. Il monopattino non si può andare, e anche questo l'ho visto, non può andare in due. Bisogna stare con le mani sul manubrio, manubrio sì, insomma quella struttura che ha davanti, e non puoi pensare di portare ad esempio scatoloni come ho visto fare, valigie nel monopattino, perché ha una struttura talmente semplice e lineare che al di là del peso di una singola persona non può sopportare. Spiegatemi come fanno a scoprire se un monopattino va a 20 o 25 km all'oraio. Io vedo che sfrecciano sui marciapiedi e zone pedonali a velocità pazzesca. Marciapiedi sì, zone pedonali no, marciapiedi no? Allora, marciapiedi assolutamente no, aree pedonali possono transitare, però la velocità al massimo deve essere di 6 km all'ora. Quindi c'è anche uno... Esatto. Sui marciapiedi... Ma dove però, sulle corsie? Sulle aree pedonali, quelle che sono chiuse al transito dei mezzi, il monopattino può andare, però al massimo 6 km all'ora. Sui marciapiedi possono portarlo come una bicicletta, anche sui marciapiedi la bicicletta non potrebbe andare, il monopattino è uguale, devi scendere e portarlo a mano e condurlo a mano. Nelle corsie preferenziali, quelle delle bici, può andare il monopattino? Sì, può andare, assolutamente può andare. L'importante è che sia sempre strada urbana con un massimo di velocità di 50 km all'ora. Che il monopattino è stato pensato e si vuole che venga usato non per fare lunghe percorrenze, ma per fare quei brevi tratti nella mente del legislatore e secondo me anche abbastanza coerente, se pensiamo alle grandi città tipo Milano, arrivi in stazione, hai il tuo monopattino che in teoria quelli di nuova generazione sono anche chiudibili, te li puoi anche portare via, ti apri il monopattino e dalla stazione raggiungi il posto di lavoro, sei in centro, non hai quindi il problema del parcheggio. Quello che mi sento un po' di dire è che il povero conducente dell'autovettura, adesso anche col monopattino, si ritrova nella carreggiata una quantità industriale di mezzi, perché all'ilà delle macchine, poi vabbè, ci possono essere i camion, i ciclomotori, le biciclette, il monopattino, l'auto elettrica e i pedoni. Quindi in una carreggiata può trovarsi tutta una serie di mezzi, ad esempio il motociclo può superarlo rimanendo all'interno della propria corsia di pertinenza, quindi del proprio senso di marcia. Per cui bisogna prestare un'attenzione massima, perché obiettivamente mi ritrovo in una situazione in cui posso essere sfrecciato una parte nel monopattino, l'altra parte è trovarmi un attraversamento pedonale con una persona che passa. L'altra cosa molto importante che hanno cambiato, e anche qui secondo me non è... responsabilità penale, parentesi, per il mito autonomo. Eh, se fai lesioni gravi, sì. L'altra cosa che hanno cambiato e non ne hanno dato molto, non l'hanno molto valorizzata, ma che secondo me, purtroppo, ahimè, è molto importante, hanno cambiato l'articolo 191. 191, credo che tutti noi sappiamo che se hai un pedone che ti attraversa la strada, tu hai l'obbligo di dargli la precedenza e addirittura fermarti se è già lungo la striscia pedonale. Cosa hanno cambiato? Hanno detto, sì, tu conducente devi dare la precedenza o fermarti non solo quando il pedone sta attraversando le strisce, ma anche se si accinge a farlo, cioè l'hanno modificato dicendo, o anche se il pedone si trova in prossimità di esse. Ah, cioè vuol dire che se il pedone non è sulla striscia pedonale, ma è vicino e sta per attraversare, tu devi già fermarti. Fermarti. Perché sennò cosa succede? Perché sennò sei ovviamente in contravvenzione e se per caso malauguratamente lo investi, la responsabilità è tua. Quindi si pone ulteriormente a carico del conducente dell'autovettura non solo l'obbligo di prestare attenzione ovunque, ma anche di metterti dentro la testa di quella persona che magari sta tranquillamente conversando con un'altra persona sul limitare della strada e dici attraverserà o non attraverserà? Cosa faccio? Perché queste sono le problematiche che una persona che si mette alla guida si trova ad affrontare. Questo è il 191 del codice della strada. Il 191 del codice della strada è stato quindi modificato. È stato modificato. Perché è obbligatorio fermarsi. Perché è obbligatorio fermarsi, assolutamente. Ricordiamoci sempre, c'è una norma del codice della strada che io la chiamo un po', è la prova diabolica che bisogna dare da parte di un conducente di una macchina. Bisogna. Il primo coma dell'articolo 141 che regola la velocità delle autovetture dice che il conducente di un'autovettura deve regolare la velocità in modo da arrestare in qualsiasi momento, in condizioni di piena sicurezza, il proprio mezzo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, mettiamo l'ipotesi, mi trovo in una situazione dove sono in un centro urbano, ho attraversamenti pedonali, ho la corsia ciclopedonale, o magari il cartello che mi indica che ci sono delle scuole. Io, in quel momento, devo essere in grado di restare in mezzo sempre. Faccio l'esempio. Mi andare pianissimo. Esce un bambino che magari non sta a mano della mamma, si butta sulla corsia, io devo fermarmi. E se non mi fermo, purtroppo lo investo, incorro in una responsabilità penale. Perché ricordiamoci comunque che nel 2016, mettendo mano a tutta la normativa dei sinistri stradali, è stato introdotto l'omicidio stradale. L'omicidio stradale e le lesioni personali gravi comportano veramente delle pene molto, molto pesanti nei confronti di chi fa un incidente stradale e gli viene riconosciuta la responsabilità di questo. Pesante. La scatola nera diventa un obbligo e quando? E cosa servirà? La scatola nera, che è molto utilizzata dalle compagnie assicurative, loro ti propongono, ti faccio lo sconto e ti inserisco la scatola nera. La scatola nera attualmente, in questo momento, ai fini della ricostruzione di un incidente stradale, non ha alcun valore. Può essere utilizzata come elemento presuntivo da parte del perito che verrà chiamato a verificare cosa è successo. Diciamo che quello che può essere utile è sicuramente ai fini della velocità, va a verificare il mezzo a quanto procedeva. Molto più utile sarebbe, però anche lì da vedere, mettere le classiche telecamere. Io poco tempo fa ho seguito un sinistro dove per fortuna era un sinistro, peraltro purtroppo mortale, dove era veramente difficile capire cosa fosse successo. Una delle macchine che si trovava dietro all'accadimento del sinistro aveva una telecamera posizionata sul cruscotto, le GoPro per capirci, quelle telecamerine. E quella ha permesso, perché aveva ovviamente un'amplissima visuale di quello che era accaduto, ha permesso di fare una ricostruzione del sinistro tale che poi ovviamente è andata a determinare le responsabilità a carico di quello che era stato imputato del reato, peraltro di omicidio stradale. Per cui sicuramente sono utili, certo per il momento non hanno alcuna valenza. L'altra cosa, abbiamo la pubblicità che incompe, ma se una persona, un'automobilista tampona un altro automobilista che ha delle lesioni, lesioni sono anche il classico colpo di frusto o qualcosa, è penale oppure no? No, allora è penale se da quella distorsione di arachide cervicale ci sono delle lesioni che possono comportare una malattia superiore ai 40 giorni, quello sono lesioni personali colpose gravi, previste appunto dal 582 del codice penale e quello dà vita a un procedimento penale che poi, vabbè, insomma, si chiuderà come... mentre se ci sono delle lesioni inferiori i 40 giorni è solo su querela di parte, cioè colui nei confronti del quale io lo tampono, lo urto, eccetera, decide di fare una querela, a quel punto ovviamente si darà luogo a un procedimento penale. Se invece si tratta semplicemente di trovare una composizione bonale in sede civile, quindi intervengono solo le compagnie assicurative, non c'è nessun pericolo di trovarsi in un procedimento penale a carico. Chiaro, sì, non è sempre piacevole, non è piacevole, assolutamente, ma intanto prendete in avvocato penalista. Vabbè, torniamo su questi temi, scrivete i vostri messaggi, però diamo la parentesi dopo la pubblicità a Stefano Zara che deve completarci il quadro investire, non investire e altro, tra poco.